Amici 2018, le anticipazioni di sabato 12 maggio 2018. Le novità del sesto serale Sabato 12 maggio 2018 andrà in onda la sesta puntata di Amici 2018 ed.17. Nel serale di sabato scorso ci sono state ben quattro eliminazioni, ossia quella di Matteo, Valentina, Zic e Luca. Ospiti d'eccezione della serata sono stati Emma Marrone, Arisa e Antonino Canavacciolo, che hanno stemperato la tensione di una serata davvero difficile. Ricordando la quinta puntata del serale di Amici 2018 ed. 17 e la decisione di Brian. Ottimi gli ascolti della quinta puntata del serale, che ha raggiunto picchi di 4.800000 telespettatori. Grande il successo sui social, su cui la Staud cancelletto Amici17 è rimasto in vetta tutta la serata. Intanto, a poche settimane dalla conclusione del programma non mancano i colpi di scena. Brian, con una decisione davvero sorprendente, ha deciso di passare alla squadra bianca, rimasta, dopo le ultime eliminazioni, senza ballerini. . L'ultima puntata del serale a San Cito, infatti, l'eliminazione definitiva di Luca e Valentina, unici ballerini della squadra bianca. . Immediatamente dopo l'eliminazione di questi ultimi era venuto spontaneo chiedersi come potesse continuare il programma senza la loro presenza in squadra. . Anche Lauren e Brian si sono posti il problema e parlando con la produzione Brian ha chiesto di spostarsi nella squadra bianca per poter continuare a sfidarsi per conquistare la vittoria nella categoria di ballo nell'edizioni di Amici 2017. . . La richiesta è stata subito accettata dalla produzione, nonché dai concorrenti della squadra bianca. . Sui social questa decisione di Brian ha visto diverse reazioni contrapposte. . Ci sono stati da una parte i detrattori che non hanno condiviso la sua scelta di cambiare squadra. . A poche puntate dalla conclusione del serale di Amici 2018, a cui si sono contrapposti tanti altri che sono stati pienamente d'accordo con la sua scelta, apprezzandone il gesto. . Amici 2018 ed. . 17, le anticipazioni di sabato 12 maggio 2018. . La sfida tra Emma e Carmen. . 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 La questione non è chiara, e ad ora non si sa se sia stato sospeso solo il giudizio di chi andrà via o in toto l'eliminazione. Bisognerà attendere la puntata di Amici 2018 ed. 17 di sabato 12 maggio 2018 per conoscere la sorte delle due ragazze. Grazie a tutti.